bella 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 circolazione di palla dei nets proprio in scioltezza mamma mia in scioltezza buongiorno a tutti ragazzi sono il franz siete su NBA Revival Zone tra poco comincerà la reaction lakers contro nets può essere la partita dei 35.000 punti di lebron james non so se li abbia raggiunti o meno in ogni caso vi ricordo che questa sera ci sarà la live qui su youtube parleremo di basket un po io e voi e niente buona reaction eccoci qui ragazzi palla 2 brooklyn nets los angeles lakers si parte come tutti sapete manca antony davis per i lakers manca kevin durant per i brooklyn nets ma comunque ragazzi ci sono lebron james james harden e kairi irving che ha dato l'ok ed è in campo c'è poi da vedere sono molto curioso le le novità per quanto riguarda i brooklyn nets ovvero diciamo un amalgama insospettabile fino a un paio di settimane un paio di settimane fino a a una settimana fa nets che hanno messo a posto due viti hanno definito chiaramente quali sono i ruoli delle tre stelle e attorno ci stanno costruendo una squadra un po più sensata in questi ultimi giorni in quest'ultima settimana intanto il treno merci in corsa non lo fermi certo tu hanno preso solamente dei grandissimi specialisti difensivi è di un paio di giorni fa l'arrivo di andrea robertson che dubito sarà in campo ma comunque arriverà difensore veramente cinque stelle dire cinque stelle in questo periodo non è che faccia proprio una bella figura ma comunque difensore top è arrivato anche i manchampert che comunque in difesa ci dà bruce brown parte in quintetto al posto di joe harris per dare un minimo più di equilibrio chiaramente joe harris è il giocatore preposto per poi probabilmente finire le partite o comunque essere in campo quando c'è bisogno di parziali ma l'equilibrio che sta dando bruce brown difensivo al quintetto titolare è sicuramente importante questo giocatore che qua in questa partita specifica è costretto a fare anche realizzatore è diventato a tutti gli effetti il playmaker della squadra prende meno tiri rispetto agli altri due prende meno tiri in assoluto rispetto a tutto il resto della sua carriera mentre altra gran palla sull'angolo per kai kuzma di lebron james ragazzi lebron james che dovrebbe essere nella partita in cui supera i 35 mila punti chissà se all'interno di questa versione estesa degli highlights ci faranno vedere il momento in cui passerà questo ennesimo record della sua carriera qua ancora harden al ferro come detto in questa partita james harden è chiamato non solo a fare da playmaker ma probabilmente a mettere anche parecchi punti oh west matthews adesso l'anno scorso i lakers avevano tutti le trecine obrobriose quest'anno hanno tutti l'afro vediamo caldo il pop e west matthews aspetto di vedere anthony davis con l'afro così posso andare in bagno a vomitare no sono troppo cattivo comunque partita in equilibrio 18 pari mancano 4 minuti alla fine del primo periodo altro bel taglio finto blocco di west matthews e poi taglia a canestro ovviamente grandissima palla non ho visto mi sembrava di caruso comunque ancora al barba che tiene dietro l'avversario e poi scarica il cioccolatino all'angolo per l'uau cabarro harden al ferro sbaglia ma c'è bruce brown dicevamo di bruce brown da quando in quintetto i nets sicuramente più equilibrati hanno almeno un corpo in difesa da mettere addosso ai migliori piccoli avversari in attacco poi ovviamente non hanno problemi sembra abbastanza scontato c'è in campo anche tyler johnson che qua da alu au cabarro pare abbastanza movimenti abbastanza casuali dell'attacco dei nets sembra che non abbiano le idee molto chiare ma alla fine comunque ne viene fuori un bel tiro per luau cabarro quale bron legge il mismatch contro tyler johnson più leggero più piccolo e qua ormai ragazzi ha meccanizzato in una maniera spaziale questo movimento cioè l'ha fatto suo è la sua signature move al momento penso abbia l'ottanta 85 per cento quando va a tirare in quel modo e tra l'altro ragazzi ha un fade away cioè prende veramente almeno due metri di spazio con quel salto all'indietro e poi chiaramente non è solo quello è guardate la palluccia che ha messo qui mentre che di si diverte in panchina potrebbe essere una preview delle finals questa chiaramente con antoni davis e kevin durant potrebbe venire fuori veramente una serie di finale con i controcavoli ed ecco qui joe harris mentre dalla panchina si alza anche che i di per esultare con i suoi più dieci brooklyn tra l'altro ragazzi dicevamo l'amalgama che hanno trovato i brooklyn nets in quest'ultimo periodo vengono da diverse vittorie consecutive stanno raggiungendo il top spot top seed ad est ci è voluto meno del previsto alla fine sembra un po di meriti li diamo a steve nesce cosa dite esordiente sì ma probabilmente un ottimo gestore di superstar di giocatori perché essendo stato giocatore solitamente gli ex giocatori hanno quel qualcosa in più a livello di gestione proprio del giocatore in quanto tale che magari altri tipi di allenatori non hanno è vero che gran parte degli allenatori sono stati ex giocatori però essere un ex mvp come lo è stato nesce cioè rispettatissimo da giocatore anche da tutti i colleghi chiaramente può essere quel qualcosa in più James Harden con l'assist no look cosa fa Kuzma allora ragazzi parliamo un attimo di Kuzma perché Kuzma è migliorato molto cioè senza ombra di dubbio è una pedina fondamentale fondamentale no ma è una pedina importante di questi Lakers ha trovato il suo ruolo secondo me prettamente offensivo sia chiaro non mi aspetto che difenda anche se qui chiude bene su Harris ma adesso verrà perculato da Kyrie Irving no e comunque notate i movimenti offensivi di Kuzma senza palla taglia sempre taglia sempre adesso starà fermo lì vabbè ovviamente palla a rel probabilmente le direttive sono lasciategli l'area in ogni caso Kyle Kuzma che offensivamente taglia sempre non dichiarata di tabella di Joe Harris che se la ride sotto i baffi Lebron che non è in campo attenzione hanno sparato a Wes Matthews Wes Matthews non sta più in piedi e Kuzma al ferro Arden omette la difesa figurarsi Irving già 12 punti per Kyle Kuzma dicevamo ma che cacchio succede ma ci sono i cecchini appostati prima Matthews adesso cade culo a terra Kentavius caldo il pop e qua ci fanno vedere Kevin Durant che si scalda non giocherà però più 14 che diventa più 17 Brooklyn Nets che tentano di prendere il largo chiaramente durante il periodo di riposo di Lebron James autocanestro di Gasol mi pare comunque durante il periodo di riposo di Lebron James i Lakers veramente hanno poco 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 da mettere in campo classico delle squadre di Lebron chiaramente senza Anthony Davis perché almeno con Anthony Davis hanno una qualche opzione offensiva e molta difesa qua vediamo se no niente ormai Lebron da quella posizione ha la virata sia sul piede destro che sul piede sinistro ormai dicevamo prima delle percentuali su questo tiro di Lebron ecco ancora spalle a canestro questa volta da molto distante guadagna spazio gira dalla parte opposta arriva al ferro e con Lebron in campo i Lakers si riavvicinano parte il terzo periodo più 11 Nets vediamo pick and roll addirittura Arden e Kyrie Irving bella 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 circolazione di palla dei Nets proprio in scioltezza mamma mia in scioltezza leggono il ritardo della difesa che scala male e Arden ma vabbè allora se Arden è questo veramente sono illegali perché adesso manca solo che metta un minimo di un minimo minimo di intensità difensiva che nei playoff ci sarà e ma ma da quando ma da quando hai questi tiri ma dai al ferro fronte al ferro per il 36 N certo la difesa è un'altra cosa ma vai con la tripla Lebron dai no oh c'è anche in campo THT il corriere espresso tale Norton Tucker arriva al ferro indecifrabile la stagione di tale Norton Tucker fino adesso più che altro il modo in cui i Lakers vogliono utilizzarlo è stato battezzato anzi incensato direttamente da Lebron James guardate avete visto avete visto prima giro perno su destro adesso giro perno all'altra parte ormai ragazzi questo tiro questo tiro gli entra con l'80 85% l'ha meccanizzato in un modo completamente fuori di testa mamma mia che lavoro ci vuole per costruire una soluzione del genere che ragazzi è totalmente immarcabile perché tu difensore non puoi saltare in avanti per quanto lungo tu sia senza eventualmente commettere fallo in ricaduta in quella situazione cioè è veramente immarcabile qua Kuzma cerca guai in mezzo all'area Arden ancora grande lettura di James Arden in transizione legge l'arrivo di Cabarro lo mette in ritmo qua split di Arden che arriva al ferro che pallacanestro sta giocando al barba e soprattutto perché perché a Houston doveva giocare in quel modo cioè ha vinto un MVP ma ragazzi Houston era veramente di una noia mostruosa da vedere giocare arriva ai Nets e torna veramente un grandissimo un signor giocatore non più un isolamento dietro l'altro non più palla in mano per 24 secondi per poi fare lo step back o andare al ferro io non so se fossero direttive di D'Antoni o effettivamente la mancanza di talento nella gestione del pallone che mancava a Houston qua c'è anche la tripla col fallo di Schammett più 20 Brooklyn speravamo tutti in una partita equilibrata per ora è veramente dominio dei Brooklyn Nets ok che manca Anthony Davis ma dall'altra parte manca Durante tripla di Marc Gasol e siamo quasi al quarto periodo sul vediamo se Lebroni infilerà il canestro che riavvicina un minimo i Lakers a questa partita si è guardato la mano quindi tira da tre no arriva al ferro di Andre Jordan piantato per terra come un paletto più 16 all'inizio del quarto periodo direi che non credo che i Brooklyn Nets possano mangiarsi questa partita ma stiamo a vedere ecco qua sprazzi di Houston Rockets isolamento per James Harden che poi lascia lì il pallone lascia lì il pallone James Harden sarebbe in grado in questo periodo di far segnare veramente anche me due punti in NBA dall'alto dei miei 184 centimetri ancora in scioltezza Amar Gasol su di sé lo salta di netto nonostante la panza e arriva al ferro in questo momento James Harden sta giocando come uno dei migliori giocatori del pianeta chiaro vedete anche voi che quando la palla non ce l'ha lui ancora come gli Houston Rockets si mette in un angolino e non fa nulla il che può essere alla lunga una cosa che le difese possono sfruttare cioè staccarsi da Harden quando la palla ce l'hanno gli altri perché tanto Harden movimenti non ne fa quindi la parata di Mar Gasol nell'angolo di Perlebron la parata di Mar Gasol ma siamo ancora più 20 qua i Nets sembrano essersi un attimo fermati ma del resto sul più 20 ci può anche stare a 6 minuti dalla fine qua anche i rimbalzi offensivi vengono incontro ai Brooklyn Nets ottima difesa di Lebron su Joe Harris che però a fortuna la palla capita a Kyrie quando la sbaglia mai Kyrie Irving Lebron James un po' stizzito frustrato anche perché insomma non è mai bello perdere di 20 a maggior ragione contro l'ex compagno Kyrie Irving che ti ha definito come un giocatore non clutch Kyrie lo sciamano ma l'avete visto e si è presentato col bastone veramente col bastone da sciamano in una delle ultime partite ma questo sta veramente la salute mentale come dice Draymond Green di Kyrie Irving è in pericolo già da mo' chissà se sparge salvia a ogni partita o se l'hanno inquadrato solamente in quella di preseason con i Boston Celtics mentre chiaramente la partita è finita da un bel po' allora ricapitoliamo questa partita versione estesa degli highlights Lebron James dovrebbe aver passato i 35.000 punti purtroppo non ce l'hanno fatto vedere in questi highlights gliene mancavano non ricordo quanti ma andiamo a vedere il box score se ha fatto più di 25 mi pare insomma dovremmo essere abbastanza certi che li abbia raggiunti qua Queen Cook va per la gloria ma attenzione meno 12 servirebbe un Tracy mccredi ancora si snoda si snoda si snoda tale Norton Tucker e finisce qui 35 secondi alla fine 32 secondi alla fine madonna ci fanno vedere proprio anche l'ultimo tiro dei Brooklyn Nets cioè che è chiaramente la tripla di Shammell che chiude qui la contesa 109 a 96 vediamo se i Lakers andranno a punti direi di sì 109 a 98 finisce qui i Brooklyn Nets vincono un'altra partita la vincono contro i Los Angeles Lakers la vincono nettamente senza Kevin Durant è vero i Lakers senza Anthony Davis ma i Nets grandissima prova di forza mentre Lebron 32 e quindi sicuramente ha passato i 35.000 punti altro record meraviglioso di questo giocatore 16 di Kyle Kuzma con 10 rimbalzi gli altri veramente poca roba veramente poca poca roba andiamo a vedere i Brooklyn Nets con i 23 e 11 assist di James Harden migliore in campo 16 Kyrie Irving con percentuali così e così 0 su 5 dall'arco Joe Harris 21 con 6 su 7 da 3 mamma mia questi poteri non so forza a livello offensivo ne hanno poi ci sono 15 punti Luau Cabarro buona partita solo triple per lui e 10 punti di Landry Schammett che però ha messo la tripla lì all'ultimo secondo tutti in garbage time più o meno i punti di Landry Schammett c'è Noah Von Lecce ha giocato anche Andre Robertson quindi diciamo hanno esordito anche i nuovi pochissimo negli ultimi minuti garbage time per carità però già un buon inizio allora recap Brooklyn Nets 109 vanno a 19 vinte 12 perse attentano al primo posto ad est Lakers 98 22 28 perse gli Utah Jazz volano via al momento come primo primi ad ovest e occhio perché a questo punto se c'è l'incognita Utah Jazz ai Clippers quasi quasi converebbe arrivare quarti per poi provare finalmente a fare questa famosa e sulla carta bellissima finale ad ovest con il derby di LA Brooklyn Nets che al momento sono veramente in ritmo hanno trovato un equilibrio che non pensavo potessero trovare in così poco tempo viaggiano spediti verso la vetta della Eastern Conference Philadelphia permettendo stagione interessante stagione che a breve vedrà anche l'All Star Game del 7 marzo si è stabilita gara di tre punti skill challenge prima della partita gara di schiacciate durante quindi a fine primo tempo nel mezzo all'All Star Game era necessario domanda ne parleremo casomai questa sera in live questa sera ore 21 e 30 su questo canale sarò live parleremo un po' di palacanestro insieme per il resto vi auguro una buona giornata tempo di montare il video e arriva un saluto il Franz di l'All Star Game di l'All Star Game di l'All Star Game Grazie a tutti.